Non si capisce come gioca, è tutto ancora da... una partita non è che dice tutto, però hanno giocato anche loro, però penso che stasera ad Ardea non si... una bellissima partita, un'emozione fortissima. Ci sono i due attaccanti davanti che sono pericolosi, dopo voi in difesa siete un po' più molli di noi in difesa, però è tutto da giocare. Io ero là al velodrome e ci sono dei momenti in cui veramente ti senti in soggezione, quindi immagino anche in campo, mentre in trasferta non posso giudicare molto perché non li ho mai visti, però i risultati non sono dalla loro parte, ma sono convinto comunque che sta partita sia a sé, non bisogna guardare precedenti o altro. La vedo bene, poi io, può andare come va, se usciamo l'importante è che abbiamo dato tutto in campo, vada come vada, però io ci credo di andare a Dublino. No, paura no, però c'è sempre un po' di ansia, paura no, tanto come va va, io spero che vinciamo, basta. È una squadra importante, è una squadra che ha un grosso passato e per cui è una squadra da non sottovalutare.